Due ore, è due ore che mi viene dal presso, due ore! Non, non, non! Noi che si è preso del pirato E' dura, è dura E' dura, è dura Salta, 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 salta Padone amico, bella pesa Bello animale Salta, salta, salta Che spettacolo Salta, salta, salta Gio, me Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'ho preso dalla cosa. L'ho preso dalla cosa. L'ho preso dalla cosa. L'ho preso dalla cosa. Sei stata durissima. E vai! L'ho preso dalla cosa. L'ho preso dalla cosa. Se andate a imbrogliare nel raffio e nella cima che tiene la canna. Bella lì! E viene con me! Bellissimo! Bellissimo! Boom boom! La Cuglia Imperiale! Wow! Posso prendere milioni di pesce ma ogni pesce ha sempre un suo perché ma poi la Cuglia Imperiale è il mio pesce. Quella più divertente e più bella da pescare. Ora possiamo chiudere tutto e ritirarci. Bella, bella, bella storia. Bella storia! Un gran bel pesce! Vabbè ragazzi! Alla prossima! Ciao! Ciao! Ciao!